Oltre 300 pagine per approfondire le ragioni che ad aprile hanno portato a confermare 15 condanne con la soluzione disposta per il solo Nicola Palena. I giudici della Corte d'Appello di Caltanissetta hanno depositato le motivazioni della decisione messa nel procedimento di secondo grado per gli imputati coinvolti nell'inchiesta antimafia Stella Cadente. La pena più pesante a 20 anni di reclusione è stata pronunciata per quello che viene considerato il nuovo reggente del gruppo Stidaro, Bruno Di Giacomo, in primo grado in abbreviato il gruppo del tribunale in seno gli aveva imposto più di 22 anni di reclusione. Il difensore, l'avvocato Francesconi, anche in secondo grado ha esposto per diverse ore le proprie conclusioni. Nei confronti di Di Giacomo pendevano decine di capi di imputazione, accuse molto pesanti sia per le estorsioni che per la riorganizzazione del gruppo Stidaro. Per gli inquirenti avrebbero avuto la disponibilità di armi e un ruolo importante nel mercato della droga, oltre alla capacità di imporre la messa a posto. Anche in appello è stata confermata l'esistenza di un organizzazione legata alla Stid rilanciata proprio da Di Giacomo. I giudici nissegni hanno disposto 14 anni detenzione per Alessandro Sciglio, 13 anni e 8 mesi per Ghetano Marino, che in primo grado non fu riconosciuto promotore del gruppo attivo nel traffico di droga, 12 anni e 2 mesi detenzione per Emanuele Lauretta, 9 anni e 6 mesi per Giuseppe Alessandro Antonuccio, 9 anni e 2 mesi ciascuno per Andrea Romano, Filippo Scerra e Gianluca Parisi, 6 anni e 6 mesi per Giuseppe Giacquinta, 5 anni e 11 mesi a Giuseppe Antonuccio, Rosario Marchese e Ghetano Simone, 4 anni al collaboratore di giustizia Giovanni Canotto, che con le sue dichiarazioni ha fornito elementi alle indagini, 2 anni e 8 mesi a carogero in furna e in primo grado assolto solo dal capo relativo al possesso di un'arma, 2 anni e 4 mesi per Luigi D'Antoni. Con il deposito delle motivazioni le difese provvederanno a definire ricorsi in Cassazione, chiedendo ai magistrati romani di rivedere le decisioni emesse dalla Corte d'Appello. Nel procedimento sono parti civili del Comune di Gela, la CGL e la Federazione Antiracket, 3 esercenti che sarebbero finiti nel mirino degli Stiddari, l'ambulante Saverio Osciglio e Rocco Di Giacomo, a sua volta a processo nell'aggiudizio ordinario. A loro volta le parti civili hanno concluso per la conferma di tutte le condanne.